tutto imbiancato che bello fortunatamente qua le strade sono pulite vediamo fino a dove riesco a salire se sono tutte pulite non ho rischi guardate guardate ma effettivamente questo più alto vediamo se riesco a arrivare fino a sopra dove mi interessa a me e se è fattibile camminare perché se poi è pieno di neve in montagna otto chilometri diventerebbero terribili da fare visto c'è la scarpa e bassa non so gli stivalenti guardate ci sono sempre gli spada neve in funzione conca e parpari stato che il fondo sci ah qua si qua fanno sci mazza che ci sta qua sopra hai ragione mio amico a questa altezza col freddo che ho fatto troppi navigatori mi ha portato un posto però sbagliato come l'anno scorso stessa cosa stendico se metti in nome di questa foresta ti porti in un altro posto che pure c'è l'accesso alla foresta ma stai molto molto lontano da questo giro andiamo a vedere finché riesco a capitare che non scivolo c'è molto sale a terra fortemente fa in modo che la neve non si non si riformi c'è molto lontano di ghiaccia io vado piano chi non gli sta bene li può anche superare oh c'è anche un lago c'è anche un lago chissà dove vado io perché qua dove vado io non ci sta tutta questa apertura così è tutto bosco portarsi sotto al bosco si cammina meglio o mentre arrivo là ricordarsi che la neve non c'è più andiamo andiamo a scoprire c'è le ruote piene di sale se hai in campagna la maggior parte della strada non si poteva fare come il termine il terbino nessuno ci passa qua anche se come vedete sono strade che non ci passa quasi per nessuno mandano lo spadaneve a pulire sto facendo in tempo reale anche se sarebbe un po' lungo da fare tutto perché mancano ancora 8 km ammazza quanta neve è bianca non si vede niente non so nemmeno se sta nevigando pure dove sta andando perché si vede una foschia bianca mi sa che sta nevigando da qualche parte sto a meno uno mi ghiaccia a terra oggi è proprio una bella avventura se ci riesco ad arrivare lì se no come si dice giro la testa all'asino al cavallo e torno indietro la macchina per il momento ce la fa tranquillamente a camminare anche se la situazione sta diventando un po' più brutta un po' di ghiaccio a terra ci sta mamma mia neve 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 sono venuto qua per trovare la neve mamma mia peggiora di minuti in minuto spero di uscire presto da sto schifo cioè nel senso di strada pericolosa ma anche se sono curioso di arrivare fino alla fine ma non credo che questa foresta sia fattibile oggi non tanto per il freddo ma per i piveti che non posso riscaldare perché ho le scarpe basse ma che vada ho dei posti alternativi dove poter andare che non dovrebbe starci la neve mamma mia è talmente bianco che gli occhi mi danno fastidio cioè mi hai visto bianco bianco dappertutto è impressionante guardate qua è talmente bianco cioè mamma mia mi danno fastidio gli occhi perché tutta quella luce bianca poi riflette anche la luce poi c'è più avanti c'è fuoschia bianca non si riesce a vedere niente ma adesso sta nevicando mazza quanta neve mai vista tanta neve così via via volevo passare una giornata tranquilla credevo che non trovavo la neve ho detto ha piovuto in questi giorni invece la pioggia di questi giorni in questa altezza è diventata neve per il freddo c'è gente che mi sta sto passando a tutta velocità e la gente non sta bene è pieno di lastri di acciatteri io sto andando piano piano e con tutto che sto andando piano ogni tanto la macchina tende che vuole girare dietro o davanti dipende da dove scivola c'è mi subono furgoni macchine è passato un mini cooper che ha fatto un suo passo in curva la gente non sta bene lo diceva si ammazza io sto a 40 km orale la velocità giusta 40 massimo 50 ma già 50 è pericolosa camminare sulle degli astri ghiaccio che stanno a terra che se perde l'aderenza è a finire in qualche scarpata tra 300 metri svolta a destra e prendi sp14 vediamo se questi 3-4 km e io non so perché c'è presentemente che sto andando in un altro posto che non c'è che ho messo il primo e mi ha dato sbagliato fra 2 km lo scopro adesso ho messo come il rifugio bocca di selva e vediamo però c'è anche un paese che sia in bocca di selva perciò voglio capire se sto andando nel paese o sto andando in questo rifugio a salire comunque è molto più facile è molto meno rischioso a scendere tenti a mettere i piedi sul freno e rischi di scivolare di buttarti giù sono un chilometro e 4 scopro la vita ma a Berga c'è la nega ma sta strada non mi convince non mi convince affatto ha preso già troppo freddo da oggi pensate che sto camminando con le ruote estive sul ghiaccio e sulla neve ci vuole pure pratica a fare queste cose giusto per curiosità ormai sono arrivato qua mi fermo ma è impossibile andare a fare il gira nella foresta dove volevo andare devo cambiare posto me ne vado in un altro posto più tranquillo sperando che non c'è neve e vado a fare un percorso e qua caputo non voglio non ho voglia di farmi una salita nella neve 8 km di neve sono parecchi anche se devo scoprire se effettivamente sono arrivato dove volevo io o sto in un'altra parte ecco perché c'è tutto questo nero andiamo a scoprire andiamo a scoprire che fine ho fatto stamattina devo trovare un posto a sole ah no ci sto questo è il posto purtroppo il posto è giusto il posto è giusto il sendier inizia 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 non si vede nemmeno il sendier questo mamma mia è congelato il sendier mamma pazzesco mamma mia mamma la tua destinazione si trova sulla sinistra mamma 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 altentara mamma mamma andiamo a mettermi in qualche parte che non rimanga imbandonato perché qua con questo un po' di ghiaccia a terra un fuggio di bocca di sede ma chi si sta aperto? questo è un giretto sono venuto in estate con l'acqua ma sono venuto in inverno con la neve credevo di trovare solo un po' di acqua mi facevo un giro così invece fa paura 1550 le tavoline sono pieni di neve mamma mia è tutto congelato impressionante pure le piante si sono congelate non ho mai visto tanta neve pensate questo è un bel posto in estate non ho mai visto no Le uccelline si stanno congelando, non so come fanno. Mamma. Freddo e boia, non so sta gente dove va, di là c'è l'uscita del percorso ad anello. Io volevo farmi un giro nelle bosche per rilassarmi, o per ammazzarmi. O man mano inizia a scendere piano piano, e che Dio me la mandi buona. Queste non sono ruote da ghiaccio come vedete, o da neve, e ho rischiato molto. Giusto tanto per gradiglie, vado a fare un giro, ma deve stare urtamente a uno scivolo io. C'è un casino nella macchina, non sono riuscito a trovare il bastone, speriamo che non mi serva. Mi vado a fare quattro passi, pensate che qua, là c'è un ingresso, c'è una strada per entrare. Tutto chiuso. Adesso mi vado a fare un po' il sentiero iniziale, fino a un certo punto vediamo dove posso camminare. Poi mi torno indietro, perché diciamo che non è che faccio una bella figura come sto vestito. Scarpanti fortunistiche, pantaloni fortunistiche, qualcuno che vedete ci deve andare a fare una riparazione a qualche parte. una seppa, semplice, semplice. Comunque si sta bene, non freddo, è solo che non voglio passarne la neve alta, perché poi mi faccio le scarpe piene di neve, un macello. È impossibile passeggiare in selle ciaspole, è profondissima la neve, non riesco a stare in piedi. Sto facendo solamente questi quattro passi, voglio andare a fare due foto. Che cacchio me l'ha fatto fare. Me ne scendo mezzo metro alla volta. C'è gli occhi, c'è gli occhi che mi danno fastidio. Troppo bianco. Anzi, camminare, mi sono già rotto. Mi sono già rotto. Me ne sto scendendo. Punti che è duro. E punti che me ne scendo. E come lo facevo questo giro? Pestemi, ci faccio girare le ciaspole. Mamma mia, impressionante. La cosa particolare di molte montagne del Veneto, che non esistono i guardrail, è tutto aperto. Se per caso prendi una scivolata, vai a finire giù. Cioè, alcuni punti ci stanno pure, li mettono pure. Dovresti, male che va, vai a spattere nel guardrail. Se dovresti salvare, al massimo si rompe un po' la macchina. Ma la maggior parte come qua, vedete? Se per caso corro, scivolo sul ghiaccio, vado a finire giù. Cioè, non esiste una protezione in caso di scivolata. Perciò ci vogliono ruote da neve e catene. Perché questo qua è abbastanza pulito da strada, diciamo. C'è solo un po' di ghiaccio ogni tanca. Però basta frenare sul ghiaccio per fare una scivolata. Qua poi corrono pure con i pazzi. Delle volte gli da fastidio che tu domandi nel piano, per prudenza. E loro vogliono correre. No, adesso sto cercando di allontanare il più possibile da questo posto. Appena arrivo giù, che sto più a caldo, senza neve. Appena elimino tutta questa zona di neve, poi decido dove posso andare. Perché sto valutando alcuni posti, o qualche posto a mio avviso. Se trovo qualche posto a mio avviso da qualche parte dove posso andare, vado a vedere. L'importante è che non ci sia la neve. Non ho trovato pure un posto, forse dove potrei andare, però me lo devo studiare. Tra 200 metri, svolta a destra e prendi SP6. No. 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 No.